Ok, allora abbiamo voluto partire con la trasparenza che è stata l'unica puntata diciamo di questo percorso a cui abbiamo potuto partecipare e abbiamo voluto mettere nella nostra presentazione un po' di aggettivi diciamo per definire la parola trasparenza. Abbiamo trovato evidente, chiaro, caratterizzato da estrema chiarezza e semplicità. Allora, con questo cosa vogliamo dire? Che trasparente secondo noi è innanzitutto il punto più importante, non per sminuire gli altri cinque, ma il punto più importante di questo percorso perché con la trasparenza, cioè con l'interattività della popolazione nell'attività dell'amministrazione comunale possiamo essere partecipi alla vita della comunità. I flussi di dati in tempo reale, ovvero sempre riguardo la trasparenza, è il modo secondo noi innovativo per essere sempre aggiornati, impiego di nuove tecnologie, per essere sempre aggiornati sulle attività che si svolgono nella nostra città. Abbiamo messo un esempio, un cartellone, una fermata degli autobus con degli orari, solo per intendere cosa intendiamo noi con queste informazioni dirette che vengono sempre aggiornate e che tutti i cittadini possano recepire. Mi sposto sulla mobilità che dovrebbe essere il secondo. Abbiamo scelto un'immagine di Viale Grigoletti dove vediamo che la pista ciclabile e il marciapiede viene calpestato da un'automobile e quindi secondo noi sarebbe opportuno, come viene fatto in altri stati dell'Unione Europea, che questi percorsi per le persone più deboli, gli utenti più deboli della strada, verrebbero immesse nella strada secondaria senza intralciare il percorso delle autovetture. Sempre riguardo la mobilità, pensiamo sia opportuno incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, ovvero è un modo per diminuire l'inquinamento e bisogna dire che i trasporti pubblici forse ci sono e forse è un mal comune della nostra città, non li utilizziamo e per questo anche forse di notte non viaggiano i mezzi pubblici. Sempre riguardo la mobilità ma anche la sostenibilità, qui ci colleghiamo, abbiamo parlato di via Riviera Asca, abbiamo preso questo esempio, secondo noi sarebbe opportuno che delle zone come via Riviera Asca, ma questo è solo un esempio, sarebbe opportuno che fosse restituita ai pedoni. Pensiamo che in zone come queste che sono ancora in contatto con la natura della nostra città possano essere messe a disposizione della popolazione, diciamo anche sugli argini del fiume Noncello, per trascorrere una giornata con la famiglia. Sempre parlando del Noncello vediamo cosa succede con una cattiva progettazione urbanistica, è facile mettere in croce come succede tutti i giorni, soprattutto l'attività di noi geometri che siamo considerati progettisti di basso rilievo, mettiamo in croce spesso la cementificazione, però bisogna dire che la cementificazione deriva da quello che è concesso da un piano regolatore e da una cattiva urbanistica. Il Noncello, come vediamo, è una risorsa da proteggere e da valorizzare, ha dato vita, forse se fosse il Noncello non esisterebbe neanche Pordenone, infatti ha dato vita all'industria tessile, ha dato vita appunto ai cotonifici, a tutte le industrie tessili della nostra zona e purtroppo un cattivo, come si può dire, l'abbiamo trattato male, diciamo che ci sono delle savane in mezzo al Noncello e vediamo cosa succede, queste qui sono immagini di dieci anni fa, ma anche un mese fa mi sembra che è successo, è una cosa anche di attualità, non è possibile una cosa così. Accogliente, qui abbiamo voluto un po' criticare forse la nostra città, perché ci sembra che nelle varie piazze di Pordenone non ci sia vita, non dico mondana, ma non ci sia una sorta di interattività dove la gente può ritrovarsi, non ci sono panchine, non abbiamo panchine, non ci sono luoghi di ritrovo e purtroppo ci rifugiamo in questi falsi miti portati dalla capitalizzazione, diciamo, di centri commerciali dove pensiamo con poco di comprare e ci rifugiamo nelle slot machine e vediamo che con queste fatua socializzazione siamo disorientati e alienati. Non è questo secondo noi il modo di vivere, ma il modo di vivere è forse appunto rivalorizzare le piazze e la vita nei centri cittadini come il nostro. Riguardo la tolleranza, allora penso sia aberrante e increscioso vedere che ancora nel 2012 troviamo delle scritte come quella a destra, non voglio neanche leggerla, queste sono scritte di Pordenone, le abbiamo trovate a Pordenone, e ci sono ancora, e anche riguardo l'omosessualità. Invece cosa vogliamo? Vogliamo complimentarci invece con l'amministrazione che due anni fa appunto si è fatta promotore, è stata una delle prime città in Italia a combattere l'omofobia e quindi pensiamo sia questa la strada giusta per combattere questi fenomeni che sono ancora presenti, xenofobi e quant'altro. Riguardo la resilienza, abbiamo due foto che individuano edifici abbandonati degli edifici abbandonati nella nostra città che noi riteniamo sia opportuno, prima di tutto in un piano regolatore, oltre al costruire nuovo, individuare nuove zone dove costruire, abbiamo pensato che sia opportuno rivalorizzare questo patrimonio che già abbiamo, a volte cerchiamo delle cose che invece esistono già, basta solo rivalorizzarle, ricopriamo appunto il patrimonio esistente, può andare con l'ultima, però sempre ricordandoci di valorizzare la nostra identità e non solo con gli edifici, qui abbiamo una bellissima foto del corso Vittorio Emanuele, non solo con i nostri edifici, con i caratteri architettonici, ma anche come cultura, cultura del lavoro e quello che è alla base anche dell'essere friulano del nord-est Italia, alla base essere propositivi e essere un volano per tutta l'economia italiana. Grazie.